abbiamo pulito le orecchie in questo piccolino abbiamo scoperto che un maschietto vivia ora si fa prendere pure in braccio guardate qui un maschiettino ieri sera era spaventato non si faceva toccare lui ieri sera no ora pure in braccio le orecchie tutte piene di crema non è un fusone è un fusone ma sei buonissimo unica cosa che abbiamo notato è che è stato sparato e c'è un piombino qui che si sente proprio ora vediamo se il veterinario lo può togliere ma molto profondo ma quanto sei buono quanto quanto è dolcissimo lì vicino all'autostrada affamato come era eh la pomadina amore per le orecchie ti piace ma che sei bella and allora and allora and Luca